Non poteva mancare l'intervista al capitano dell'Argentina, Loreto Lobosco. Ciao Lore. Ciao a tutti, è un piacere ritornare qua sicuramente. Ti ritroviamo qua all'Argentina, hai avuto tanto offerte, ti hai cercato anche la Saremesa, lo sappiamo tutti, non è un segreto, hai voluto rimanere qua, quindi sei convinto delle potenzialità che ha questo gruppo? Sì, sicuramente, la società sta mettendo a disposizione tutto il possibile per migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, sono rimasto qua perché naturalmente queste persone che ho conosciuto l'anno scorso sono comportate degnamente nei miei confronti, sono stati dei signori, quindi essendo che io sono uno che poi si lega molto all'ambiente, ringrazio sicuramente tutte le persone che poi mi hanno cercato perché sono stato di nuovo tante, meno male, però ho voglia di cominciare qua un altro anno per disputare un campionato migliore di quello dell'anno scorso. Sono tre stagioni che vai in doppia cifra, ormai ci hai fatto l'abitudine, devi farla anche in questa qua perché altrimenti il sogno della Lega Pro… Certo, ma no, sai che io la penso sempre a livello… prima c'è il gruppo, naturalmente è importante l'obiettivo comune di gruppo e se poi ad aiutare questo obiettivo ci può essere il mio bottino personale, quella è una cosa in più, però l'importante è che si migliori sicuramente quello che abbiamo fatto l'anno scorso che non è da poco. Grazie Laura.